Via. Pronti? Siamo qui con Angelo Cei e oggi parliamo di essenzialmente un po' delle differenze fra i diversi sistemi formativi, sia scolastici che universitari, poi un confronto fra l'Italia e il resto del mondo, con particolare riferimento alle discipline scientifiche e con un occhio anche magari alle possibili conseguenze sul piano occupazionale. Angelo, ti vuoi presentare in due minuti? Sì, allora io sono un ricercatore che si occupa di storia e filosofia della fisica e che si occupa anche di ricerca nel settore della formazione. Per quanto riguarda il settore della formazione ho collaborato a un progetto internazionale finanziato da Erasmus Plus che si chiama Desci e adesso sto scrivendo cose che riguardano la storia e la filosofia della fisica. Sono a disposizione per discutere sia degli aspetti culturali dell'educazione nelle materie scientifiche che degli aspetti formativi. Fantastico, io partirei, tu diciamo, mi avevi dato un'occhiata anche al video che avevamo fatto con Filippo Contessi e mi dicevi che avevi qualche, ovviamente, accordo con alcune cose e qualche invece punto di distanza. Se vogliamo cominciare da questo, magari partiamo dal discorso che avevamo fatto con Filippo e poi abbiamo la chiacchierata. Ma guarda, io non so se si tratta in senso stretto di punti di distanza, si tratta di punti di, forse più di punti complementari. Io ho qualche perplessità, per esempio, quando viene paragonata la formazione degli studenti italiani con quella degli studenti stranieri, a me che quotidianamente mi occupo di queste cose, viene sempre in mente il fatto che gli studenti di molti paesi stranieri che vengono presi in esame, in particolare dei paesi più industrializzati, sono studenti che vivono all'interno di un sistema formativo molto ben strutturato. I nostri non hanno la stessa, entro certi limiti, non hanno proprio la stessa fortuna, o meglio, vivono all'interno di un sistema nel quale i vari settori della formazione sono stati anche abbastanza rivisti nel tempo. Però non c'è stata una revisione globale. Quindi che succede? Succede che noi cominciamo formando, per esempio abbiamo sempre formato molto bene studenti di scuola elementare, però non abbiamo molto bene un'idea di che tipo di profilo poi andrà a finire dentro la scuola media. E questo vale anche per gli studenti della scuola media e per gli studenti delle superiori. Questo è un danno molto grave, perché invece in altri sistemi c'è un'idea molto precisa di come deve essere lo studente che tu mi mandi. Tant'è vero che in altri sistemi, a differenza che nel nostro, non è tanto importante l'esame che lo studente fa quando finisce il percorso precedente, è importante l'esame che fa quando entra nel percorso successivo. Cioè io voglio che lo studente risponda a determinate caratteristiche. Come faccio a chiederlo? Sostanzialmente trasmetto l'informazione a livello inferiore, gli dico, mi raccomando, questi parametri devono essere soddisfatti, perché se questi parametri non vengono soddisfatti io poi non lo voglio. E chiaramente chi forma lo studente a livello inferiore sa che deve costruire un percorso per portarlo a quel livello lì. In tutti i sistemi formativi ci sono dei limiti, ci sono dei meccanismi che non funzionano, ma nel nostro, più che esserci meccanismi che non funzionano, ci sono un insieme di meccanismi che non si incastrano. Questo è il problema principale. Cioè noi formiamo studenti, anche abbastanza bene, studenti di scuola elementare o di scuola media, che però poi non si sa bene che vanno a fare al liceo. E adesso tra l'altro le riforme del liceo sono anche peggiori di quanto fossero prima, perché continuano ad aggregare e togliere cose, creando ancora più confusione. Ma il vero problema di fondo è che non si capisce bene come tutte queste parti debbano aggregarsi per portarti da qualche parte. Quindi c'è un limite e dovrebbe essere, se capisco bene, nella coerenza tra i diversi stadi del percorso formativo e diciamo nella mancanza di coerenza tra i diversi stadi di livello formativo. Sì, nel nostro caso è proprio la mancanza di coerenza il problema, è che non c'è un'idea di come deve essere la persona che, tanto per capirci, esce dall'ultimo anno di scuola superiore, che cosa deve sapere, cosa deve saper fare e come deve essere. Perché questi tre valori, queste tre variabili, in tutta la letteratura formativa a nostra disposizione oggi, sono di fatto tre componenti che non sono scindibili. Mentre per esempio una cosa che si vede abbastanza bene quando si traccia il profilo, soprattutto degli studenti che occupano, che stanno nelle scuole superiori, è che la scuola superiore italiana, pur avendo una buona tradizione, anche negli istituti tecnici, di formazione dello studente, non sa tanto bene come deve essere lo studente. Cioè non ha un'idea proprio precisa di quali sono le caratteristiche personali che lo studente alla fine dovrebbe avere. Questa cosa viene lasciata un po', viene fuori un po' così. Eh no, non deve venire fuori un po' così, perché poi lo studente che esce dalla scuola superiore, in principio dovrebbe poter andare a lavorare per un'azienda. E io non è che posso mandare a lavorare in un'azienda un tizio che, che ne so, sa tutto di circuiti, però non riesce a interagire con gli altri, si arrabbia, non tollera che tu gli dica guarda questo va fatto un po' meglio. Questo genere di aspetti qui va comunque valutato esattamente come vanno a valutare tutte le altre cose, ma non per una questione etica, per una questione formativa, perché lo studente deve essere formato in tutti gli aspetti della sua personalità. E ci sono anche quelli umani che chiaramente, rispetto ai quali, chiaramente non entriamo fino al dettaglio di come gestiscono per esempio l'intimità o i rapporti interpersonali intimi, però devono comunque essere costruiti come si deve, altrimenti poi, ripeto, quando entrano in contatto con un mondo come quello aziendale, danno di matto. Quindi, se capisco bene, l'altra cosa che, adesso ti faccio fare l'esempio, però l'altra cosa quindi che manca è, da un lato c'è una mancanza di coerenza tra i livelli diversi, ma manca anche, se vuoi, un identikit o un quadro della tipologia di soggetto che tu vuoi formare, quindi è come se, tutto sommato, questa serie di nozioni, questa serie di programmi che magari rispondono a certe logiche, hanno qualche tradizione di carattere culturale, quello che è, fossero slegati da quello che è l'individuo che tu, non dico che vuoi produrre, ma il risultato che tu vuoi raggiungere. Perché se io dico, io voglio raggiungere l'idea di avere un soggetto che sia capace di interagire con le persone, capace di autoapprendere, capace di risolvere i problemi, ho tre metriche su cui io posso misurare e dire, sono riuscito a produrre questa cosa? Sì. Invece, se io ho il programma ministeriale, dice che bisogna fare la storia fino alla Seconda Guerra Mondiale, bisogna fare la letteratura fino a Montale, boh, se si riesce. Io in realtà, in realtà, sto facendo una cosa che si fa fatica anche a misurare, perché poi è il demandato alla discrezionalità delle singole scuole, dei singoli docenti, sviluppare o meno quel tipo di dinamiche o certificare il nozionismo. Non so se questa è un pochino la questione, poi stavi facendo un esempio, scusi. Per certi versi, in questo momento in Italia è persino peggio, perché ci sono, sono passate all'interno delle riforme che sono state varate in questi anni, idee in cui effettivamente è immaginato uno spazio per far sviluppare la personalità degli studenti. Però poi mancano tutti i gangli organizzativi intermedi che non solo spieghino al docente come dovrebbe fare a far sviluppare queste cose. In concreto, non semplicemente fornendogli un'agenda in cui deve riempire delle caselle, ma con degli esempi effettivi. Ma mancano poi altri meccanismi di ridistribuzione dell'informazione. Per esempio, una cosa nella quale le scuole superiori, non solo le scuole superiori, sono abbastanza caotiche, è nel rendere sistematica una certa esperienza. Io, che ne so, faccio fare ai ragazzi il pomeriggio un'attività nella quale imparano come gli scienziati sviluppano le loro conoscenze in un determinato ambito. La scuola fa tutta una serie di passi per registrare questa esperienza, però poi non sa bene dove metterla. Per cui ci possono essere altre scuole interessate, a quel punto la scuola entra in una sorta di fase caotica nella quale o gli dà il mio nome, però non gli sa indicare dove possono andare a prendersi l'informazione. Tutti questi stadi sono collegati in maniera caotica e il collegamento caotico non fa altro che rendere molto più difficile trasformare queste esperienze in esperienze di crescita dell'intero sistema. Io non sto dicendo, in altre parole, che non possiamo approfittare di certe esperienze locali. Certo che ne dobbiamo approfittare perché è solo a livello locale che poi escono le esperienze, però noi dobbiamo poi alla fine costruire un sistema che ci permetta di prendere l'esperienza locale e diffonderla. Ecco, questo non c'è. O se c'è è a spot, un po' sì, un po' no, un po' su, un po' giù. Ecco, infatti a questo proposito, su due spunti, che provando magari a fare un confronto anche di carattere internazionale. Le due cose che ti volevo proporre, di commentare, sono da un lato ci sono questi famosi comunque test standardizzati, vari PIS, eccetera, che vuoi non vuoi. Tutto sommato, all'interno di cose anche molto diverse, diciamo, di culture differenti, però cercano di misurare una serie di competenze di base, tipo la comprensione di un testo, tipo la capacità, insomma, di comprensione di carattere numerica, delle cose che una qualunque istituzione generalmente dovrebbe avere perché sono prerequisiti per interagire con il mondo contemporaneo. E vediamo, al di là delle differenze internazionali, anche una rilevante escursione sul territorio nazionale, vediamo, insomma, anche tra le scuole italiane, tra il nord e il sud, piuttosto che tra gli istituti tecnici, alcuni, insomma, vediamo delle differenze grandi, vediamo delle differenze di carattere internazionale. E l'altra cosa su cui, diciamo, magari ti invito a commentare è a parità di ignoranza, perché secondo me l'altra questione è che tutti stiamo, diciamo, vedendo che essenzialmente comunque nelle scuole di oggi, diciamo, le nozioni che vengono trasmesse a livello proprio quantitativo, a mio avviso, sono visibilmente diminuite rispetto, ormai ci si fanno le bazellette, ma sia andando, questo penso a livello mondiale, no? Anche con il portato del fatto che vivendo, diciamo, in un'economia della conoscenza, oggi tante delle cose che prima era utile sapere a memoria, non è necessario, cioè c'è quella definizione di Umberto Eco che parla di cultura come la capacità, diciamo, di reperire l'informazione che serve nel momento in cui serve, e qui diciamo contro, insomma, il costo della riduzione, mi domando se a parità di ignoranza non faccia premio, magari guardando anche, che so, gli istituti di tipo anglosassone, l'idea che magari in una scuola vengano forniti quegli strumenti di saper fare una ricerca, sviluppare un progetto indipendente, cercarsi le informazioni, quindi di dire, io ho un problema da risolvere, mi cerco chi l'ha già risolto e faccio quello che magari può essere il progetto di chimica, il plastico, rispetto comunque a un'impostazione, diciamo, magari più vicina a quella della scuola italiana che è meno concreta, è più nozionistica e in realtà, diciamo, sforna dei ripetitori di informazioni piuttosto che dei soggetti che possano risolvere dei problemi. Non so, tu come lo vedi questo confronto? Allora, guarda, ti posso dire, come ti dicevo, l'ultima esperienza che ho avuto è stata con gli studenti dell'istituto tecnico. Gli studenti dell'istituto tecnico mediamente sono studenti sicuramente meno competenti dal punto di vista linguistico degli studenti di un liceo classico o cose di questo genere e sono studenti noti in Italia per essere studenti molto più inclini attivi da pratica, nel senso che lavorano con i circuiti, fanno una serie di cose. Gli studenti con cui ho avuto contatto io, gli studenti con cui ho sviluppato alcuni dei progetti o che ho osservato durante il progetto di ricerca, sono studenti che hanno sicuramente queste caratteristiche, però non hanno maturato granché la sensazione del valore di queste caratteristiche. Cioè, di nuovo, l'idea di saper fare delle cose non gli è stata trasmessa col principio del tu fai questa cosa qui, ma comunque in generale questa cosa qui è un esempio di quello che puoi saper fare, quindi poi in futuro farai altro. No, è stata trasmessa piuttosto con l'idea del abbiamo dieci licenze, quella per realizzare i circuiti, quella per il software, quella per questo, cerca di prenderne il più che puoi. Quindi alla fine per loro l'acquisizione di una competenza pratica, la licenza, è semplicemente un esercizio che loro fanno esattamente come quando fanno un esercizio, risolvono un problema di fisica o si studiano la pagina d'italiano. Il principio è lo stesso. Poi magari per alcuni di loro il conseguimento di una licenza può essere più divertente, però queste sono più differenze individuali che non differenze di spirito in fondo. Rispetto a questo, per esempio, una scuola come la scuola britannica premia e premia molto di più. Perché? Perché pur essendoci anche in Gran Bretagna delle differenze di licenze, soprattutto in certi casi mostruose, in generale l'idea della scuola dei britannici è, io non è che ti devo far imparare tutto lo scibile, io ti trasmetterò una serie di informazioni che secondo noi sono effettivamente importanti per fare il lavoro che devi fare, ma soprattutto ritrasmetto un insieme di abilità che ti permetteranno poi successivamente di acquisire altre informazioni, di specializzarti e soprattutto ti permetteranno di ampliare anche le abilità stesse. Quindi una volta che tu saprai come si fa una ricerca su qualcosa, saprai anche, avrai gli strumenti di base anche per ampliare quelle stesse abilità. Per imparare, per esempio, che la ricerca che tu hai fatto sui portali di internet, per esempio, attraverso i portali di internet, cercando dei siti web che ti dicono delle cose, può essere fatta per cercare, che ne so, letteratura scientifica in un determinato argomento. Perché esistono dei portali che listano tutti questi risultati scientifici e tu qua però devi fare una ricerca diversa, però per fare questa ricerca diversa esistono delle istruzioni che sono accessibili. Questo tipo di spirito noi non lo abbiamo, comunque ai nostri studenti va trasmesso chiarendo che stiamo parlando proprio di metodo e non di contenuti, perché non hanno questa distinzione chiara. Agli inglesi no, agli inglesi questa idea che quello che gli stai trasmettendo in quel momento è effettivamente, soprattutto un metodo piuttosto che un contenuto, una cosa che diventa chiara molto presto. Tant'è vero che io, quando ho insegnato nell'università britannica, non ho mai avuto problemi a chiarire allo studente che quando scriveva un saggio c'erano determinate indicazioni che avevano un carattere puramente metodologico. Questo era chiaro dall'inizio. Anche quando avevi a fare con studenti che non venivano formati solo per scrivere saggi, anzi tendenzialmente non ne scrivevano molti. Questo era chiaro a tutti. Perché? Perché gli era stato insegnato da prima a scrivere saggi e perché il loro accesso a quel tipo di attività era guidato dall'idea che il saggio è uno dei tanti strumenti che usi per manifestare la tua competenza in un determinato ambito. Questa è una cosa che da noi ancora è molto gracile dal punto di vista culturale. Ancora i nostri studenti non hanno questo tipo di consapevolezza. Ecco, proprio avvenendo a questo discorso invece che mi dicevi delle licenze, cioè io prendo la cosa, cerco di prendere la licenza, non è che prendo il metodo per saper fare le cose. Quanto questo da un punto di vista magari culturale può essere se vuoi? Non dico, magari anche il prodotto di una società che è impostata in modo, se vogliamo, corporativo. Quindi con l'idea che esiste un numero finito e dato di professioni, c'è l'avvocato, c'è il commercialista, c'è il medico, c'è l'artigiano, c'è il geometra, ci sono un insieme finito di cose che tu puoi fare e tu in qualche modo ti devi, tornando un po' insomma alle date comuni, iscrivere a quella gilda laddove invece un mondo che, come dicevi, più aperto e di carattere culturale ti genera quei passaggi per cui, che ne so, Steve Jobs va a studiare calligrafia e poi decide di fondare l'Apple, per dire no. Quindi si idea che comunque o magari uno che è laureato in storia si prende una specializzazione e poi va a lavorare in una start-up. Quindi non so se secondo te c'è questo, questo a differenza. Guarda, in tutta onestà non sono completamente convinto che ci sia un retaggio, come dire, corporativo in questo tipo di mentalità. Credo che in un certo senso siamo ancora un po' nel mezzo. Cioè il nostro paese è mutato tanto nel corso di questi anni, soprattutto degli ultimi vent'anni. Si sono radicate esperienze che potrebbero essere giudicate positivamente anche da un punto di vista liberale, ma non al punto da erodere una certa base che, come tu stesso dicevi, ha radici molto più antiche. Un esempio di questo, anche se non è un esempio diretto, può essere visto, per esempio, rispetto alla tutela delle garanzie per i farmacisti. Sono relativamente minoritari gli italiani che dicono, ragazzi, abbiamo tolto le licenze per tantissime attività, perché questi devono continuare a godere di tutte le facilitazioni che gli vengono dal fatto di essere una corporazione. Non serve. Io non ti sto dicendo che tu non devi avere il farmacista dietro al bancone per vendere i farmaci. Certo che lo devi avere, ma la proprietà della farmacia, gli impegni che la farmacia si prende col mercato e tutte queste cose qui non devono essere garantiti dalla presenza di un farmacista. Il farmacista è solo uno degli elementi che la farmacia deve avere per garantire un servizio adeguato all'utenza. Il resto sono affari del farmacista, il quale può essere sia una gigantesca multiproprietà che ha affari di tutti i generi, può essere un privato che investe nel settore farmaceutico, ma non deve essere un farmacista. Ecco, noi queste distinzioni ancora non le abbiamo chiare e non le abbiamo chiare, ma questa è solo la mia opinione, non le abbiamo chiare perché manca lo zoccolo duro di una consapevolezza culturale nella quale la persona che acquisisce determinati strumenti li pensa non solo sul piano pragmatico, sono laureato in farmacia e posso fare questa cosa, ma li pensa anche su un piano culturale. Quindi dice, vabbè, io appartengo a un ambito professionale e formativo nel quale si possono fare tutta una serie di cose, ma non sta scritto da nessuna parte che per il fatto che appartengo a quest'ambito professionale, poi mi devono essere garantiti determinati diritti a prescindere. Ecco, da noi ancora queste due mentalità convivono, tra l'altro convivono generando in certe circostanze anche molti conflitti, perché non vedo personalmente, per esempio non vedo per quale motivo il caso della farmacia è un caso in questione, non vedo perché il farmacista dovrebbe avere tutte queste facilitazioni e soprattutto mi sembra bizzarro che il farmacista, per esempio, poi si arrabbi col parafarmacista o si arrabbi con il supermercato che vende determinati tipi di farmaci. Per me è assurdo, però queste tensioni rimangono. Probabilmente è lo stadio a cui siamo noi in questo momento, insomma. Non è che voglia scaricare la responsabilità, secondo me possiamo fare molto per cambiarlo, però dobbiamo prendere atto che è qui che siamo, cioè che questa è la realtà nella quale siamo. E con riferimento magari anche alle cose che studi tu più in dettaglio, quindi all'insegnamento delle discipline scientifiche, tu che tipo di differenze noti sia dal nostro sistema e soprattutto diciamo qual è quella cosa che caratterizza, se vuoi, anche un po' quell'idea tipica italiana per cui c'è una differenza tra, non più di una differenza, c'è una differente importanza tra, esiste intanto una distinzione tra sapere umanistico e sapere scientifico e comunque, almeno nella matrice italiana, c'è una maggiore importanza per quello che è, diciamo, il sapere umanistico. Andando a guardare il, come posso dire, il quotidiano nella barzelletta è un grave caso di ignoranza, non so, sbagliare il congiuntivo o non ricordare una data storica. Essere invece ignoranti su qualcosa di matematica o sul sapere scientifico, invece è assolutamente tollerato e non costituisce. Quindi, diciamo, tu questa distanza, secondo te, come la vedi? Ma guarda, io, diciamo, ho circa, ho più o meno due punti di vista sulla questione. Il primo è che è ormai molto diffusa l'idea che qualsiasi tipo di formazione, da un punto di vista culturale, umanistica o scientifica, conta poco, se è condotta in maniera molto intensa, ti spinge a diventare più che un intellettuale quello che i telefilm americani ci hanno abituati a chiamare nerd. Quindi diventi uno strano che ha anche proprio abitudini sociali poco condivisibili, che fa strane considerazioni. È molto diffusa nella visione che gli americani, ma non solo gli americani, hanno del nostro rapporto con la dimensione culturale, quest'idea che più tu vai in profondità, più strano diventi fondamentalmente, che in un certo senso avere un atteggiamento normale corrisponde allo stare più in superficie rispetto a determinate cose. e questo a mio avviso condiziona in Italia qualsiasi tipo di approfondimento. Detto questo, però è vero che l'Italia è ancora un paese nel quale è più grave mancare di conoscenza da un punto di vista umanistico che non mancare di conoscenza da un punto di vista scientifico. E questo secondo me, questa è una cosa che dipende da molti fattori. Quelli che posso vedere io dal mio punto di vista, ma non sto dicendo che sia l'unico punto di vista accettabile anzi, è che noi abbiamo vissuto a un certo punto una fase, una stagione, quella del passaggio dal fascismo al primo periodo post fascista, nel quale gli elementi dominanti della nostra formazione culturale erano elementi umanistici. Era un umanista gentile che aveva fatto la riforma dell'università e che aveva dato un certo tipo di impostazione, solo a puro titolo di memoria, vi ricordo che chi si formava all'interno di un liceo classico e solo del liceo classico poteva accedere a qualsiasi percorso formativo universitario, non così neppure per gli scientifici i quali non potevano comunque iscriversi a determinate facoltà, il che era un evidente segnale del fatto che per gentile l'ideale umanistico fosse incarnato dagli studenti che venendo dal classico poi proseguivano. Questa era l'idea di Come. Ma questo tipo di idea ci ha accompagnato anche dopo successivamente le nostre reazioni a quel tipo di visione sono state prevalentemente incentrate attorno alla visione di Croce, il quale, pur non essendo minimamente d'accordo con Gentile perché Croce era un antifascista e Gentile invece era decisamente fascista, aveva un'idea che però sulla cultura scientifica più o meno rimava con quella di Gentile, cioè si trattava di una forma di riflessione intellettuale secondaria non destinata a cogliere le questioni fondamentali dello spirito, le quali invece erano accessibili soltanto attraverso canali di tipo filosofico, diciamo. Ora, è chiaro che se io vengo da questo tipo di formazione, il percorso per arrivare a mettere a fuoco una visione della scienza più nobile è molto più difficile. È interessante notare che quelli sono stati gli stessi anni nei quali la cultura italiana ha espresso figure come Castelnuovo, come Enriches, cioè gente scienziatica avevano una visione della scienza nobile di tipo filosofico, accompagnata da scritti di tipo filosofico, quindi non è che semplicemente fossero entusiasti praticanti del calcolo, erano entusiasti praticanti del calcolo che poi scrivevano anche riflessioni sul significato filosofico di questa attività e avevano una sensibilità culturale alla scienza. Il problema è che questo orientamento da noi è stato da subito minoritario, è diventato, è stato, si è conservato nel corso dei decenni, è ancora vivo oggi, però continua a non essere una, a non corrispondere a una percezione generale e quindi proprio perché non corrisponde a una percezione generale abbiamo la barzelletta nella quale è ignorante quello che non sa i congiuntivi o non sa le date, ma non è un ignorante quello che non si ricorda il valore numerico di pi greco o qualsiasi altra cosa di questo genere. Perché queste, perché le esperienze scientifiche continuano a essere percepite come esperienze tecniche, cioè sono esperienze nelle quali tu analizzi determinati dettagli e però l'opinio comunis è che tu non riesci ad avere una visione generale, ti concentri su degli aspetti molto particolari. In realtà questa è solo una parte di quello che fa l'attività scientifica. L'attività scientifica fa anche molto altro, ma questa è la mia opinione, e a noi italiani farebbe molto bene acquisire alcuni degli strumenti fondamentali della mentalità scientifica, tra cui principalmente il senso critico. Ecco, infatti secondo me con questo poi magari andiamo anche alla fase conclusiva della nostra conversazione. Ti volevo invece evidenziare uno spunto che potrebbe essere da un lato un apparente paradosso. Dall'altro lato in realtà poi per come agire in realtà potrebbe avere invece un discorso coerente. Venendo a quello che dicevi tu, ricordo anch'io che diciamo mentre da un lato si dice che il sapere umanistico è come se fosse l'unica vera cultura tale per cui anche il medico, anche lo scienziato, anche il fisico deve aver fisico quello bravo, è uno che ha fatto il liceo classico, quindi la cultura che ti apre tutte le porte. Da un altro lato però vediamo che sul mondo lavorativo è come se si capovolgesse e quindi secondo me c'è proprio culturalmente una differenza fra teoria e pratica, perché che succede? Succede che però quelle discipline universitarie che possono essere le lettere, possono essere l'archeologia o comunque quelle di marcata, diciamo, impostazione umanistica, che tutto sommato sono, se vuoi, la naturale prosecuzione di quello che è liceo classico, oggi vengono poi, o comunque in realtà anche negli anni passati, all'atto pratico, quando poi bisogna lavorare, vengono in qualche modo, non so, demanzionate alle lauree inutili, però storicamente l'Olivetti, la Fiat, quelle che erano insomma le grandi imprese italiane, prendevano ingegneri anche per fare le risorse umane, anche per il marketing, così come senza una laurea in economia, magari una buona università, è difficile che ti chiamano anche per un colloquio con la laurea in storia e quindi vediamo che, diciamo, da un lato quella cultura che ti apre tutte le porte, se la approfondisci a livello, insomma, poi ti chiude quelle di carattere professionale, laddove invece, come vediamo, il mondo anglosassone è da un lato perfettamente normale e non so, magari avere un titolo di studio, che ne so, in storia e poi approfondire una cosa completamente diversa, che magari, ma l'altra questione è che c'è questa idea maggiore di, come posso dire, avere una formazione che ti insegna, diciamo, le nozioni di base e che in realtà ti lascia aperte le porte di tutti i lavori. La cosa che dicevamo con Filippo nell'altra conversazione, diciamo, lì magari è un tema un pochino più classista, però che, per il quale, magari se tu hai fatto una buona università, è quasi, di questo nel mondo anglosassone, è quasi irrilevante quale facoltà tu abbia fatto, perché comunque, diciamo, c'è un cervello che viene da Oxford, se il cervello finora ha fatto storia, ha fatto filosofia, ha fatto lettere antiche, frega niente, perché il cervello di Oxford, io lo prendo, dopo un mese lo faccio diventare banchiere, lo faccio diventare, diciamo, esperto di informatica, quello che è. Da noi invece no. E quindi in realtà tu come lo vedi, secondo te c'è più un discorso di, è un paradosso, è diciamo, o è magari figlio di una distinzione fra teoria e pratica, perché secondo me l'altra cosa che passa molto nell'immagine comune della cultura italiana è quest'idea che ci sia una teoria alta fatta per i grandi professori, per i sapienti, per quelli che tutto sommato discettano di cose che stanno in cielo e in realtà una vile pratica, la vile tecnica è quella fatta dal mondo dove si lavora e poi si portano a casa i risultati, non lo so. Questa cosa tu sul piano culturale come la vedi? Io diciamo che sul piano culturale la vedo così. L'Italia dal punto di vista culturale non è ancora dove sono grandi democrazie come quella tedesca o come quella britannica e cioè è in una situazione nella quale si continua a pensare che dal punto di vista culturale gli obiettivi più alti siano gli obiettivi più nobili, perché questo è un pensiero diffuso, ma la maggior parte delle persone che pensa a questo, pensa anche che siccome loro non appartengono a quelle classi sociali che possono permettersi di investire in quella direzione, loro devono occuparsi di questioni un po' più concrete e questa distinzione tra obiettivi alti e obiettivi bassi diventa poi in concreto una distinzione tra chi ha molte risorse e può permettersi di aspettare per realizzare i propri obiettivi, al limite anche senza realizzarli da un punto di vista professionale perché in realtà comunque ha le risorse per poter continuare a studiare le cose che gli interessano e quelli che invece hanno bisogno di un lavoro e quelli che hanno bisogno di un lavoro devono concentrarsi su altra tipologia di formazione. Ti faccio un esempio per capirci. È vero che se tu vuoi avere delle opportunità professionali è molto più utile una laurea in economia che non una laurea in lettere, però anche quando viene assunto quello che è laureato in economia si continua a privilegiare quello che è laureato in attività, nell'ambito economico, in attività che hanno un immediato impatto pratico piuttosto che non quello che ha, che ne sono la laurea macroeconomica. Sì, sarà sicuramente interessante ma chi se ne frega. In quante aziende si potrà impiegare un tizio che si è occupato di politiche internazionali per lo sviluppo? No, le politiche internazionali per lo sviluppo ti possono interessare se tu vuoi andare a fare un master da qualche parte e interessartene ancora, ma qui all'interno dell'azienda a me interessa uno che invece ha una laurea che gli permette per esempio di plasmare il lavoro delle unità che si occupano di marketing. Questo mi interessa. Il resto, ecco, questo tipo di impostazione che da noi è molto più forte che in altri paesi, secondo me è un po' la cifra della questione. Rispetto per esempio alla differenza con la Gran Bretagna, beh, il passaggio in un certo senso tra virgolette è semplice. La Gran Bretagna è un paese che si è evoluto, è cresciuto, ha imparato a riconoscere in determinate applicazioni un valore a prescindere dalla natura dell'applicazione. Quindi se tu sei laureato in storia perché sei stato accettato a studiare storia in un'università di alto profilo per gli studi storici, cioè da attendersi che tu comunque sia capace di imparare e che tu abbia acquisito delle abilità. E io parto da quella capacità di imparare e da quelle abilità per costruire ulteriori competenze. Ma perché questo? Perché gli inglesi sono consapevoli che il loro sistema di diffusione del lavoro e della ricchezza non dipende semplicemente dal fatto che chi lavora possiede certe conoscenze, ma dipende dal fatto che chi lavora è capace di acquisirne di nuove. Quindi, visto che bisogna essere capaci di acquisirne di nuove, a me non è che mi interessa tanto che tu abbia proprio acquisito questo set di competenze qui e basta. A me interessa che tu sia in grado di ampliare le conoscenze che hai. Poi, gli inglesi hanno un deficit nel loro sistema formativo, che è quello per il quale in realtà all'interno degli atenei più importanti. Si entra solo se si ha una storia formativa che passa attraverso percorsi che sono accessibili solo se si hanno molti soldi o alternativamente se si ha una famiglia che ha seguito con molta attenzione la tua formazione perché se è così, dalla scuola elementare puoi entrare nelle cosiddette grammar school e chi entra nel grammar school non paga, però entra in una scuola di buon livello. Quindi dopo può andare anche dentro le università di primo piano, diciamo. Questo è però un meccanismo che ha un elemento, un deficit fondamentale, un critico, cioè chi non ha dietro le spalle una buona formazione, un buon retroterra dal punto di vista economico non va da nessuna parte, non riesce a crescere e questo in qualche modo è l'elemento che sta un po' congelando la vita in Gran Bretagna, nel senso che sta collocando in basso sempre le stesse persone e in alto sempre le stesse persone. Uno dei vantaggi della Gran Bretagna è che la Gran Bretagna almeno fino a un po' di tempo fa aveva uno stato sociale che compensava abbastanza per queste differenze e quindi dava in termini di servizi un po' di più a chi stava peggio, togliendo un pochino a chi stava sopra. Noi non siamo più da tanto tempo in quel tipo di situazione, non abbiamo più una situazione nella quale c'è una fascia media spessa, alta, nella quale si entra come si vuole ma in cui ci si muove. Adesso siamo un paese prevalentemente di proletari fondamentalmente o comunque di persone che guadagnano poco e questo oggi per noi è un problema molto grave, ma questo però è un altro piano, un piano più politico che non formativo. Sì, diciamo in realtà, venendo magari un po' a tirare le fila di tutta la conversazione, in realtà siamo arrivati a un punto che a mio avviso oppure riguarda un po' tutte le economie sviluppate che è quello essenzialmente magari del famoso 1% o comunque della concentrazione della ricchezza, della cultura, dei posti di rilievo all'interno di minoranze che tendono poi chiaramente ad autoperpetrarsi perché si sposano fra di loro, conferiscono la migliore educazione possibile e le migliori relazioni ai propri figli e quindi finiscono per diventare, non dico una casta, ma comunque un insieme di persone nei quali è sempre più difficile entrare o accedere per chi viene dal resto. Quindi questo è un fenomeno che si riscontra a livello un pochino globale. Secondo me quello che potremmo portarci a casa come ragionamento in realtà anche un po' tra l'Italia e il resto del mondo e magari anche come segnale insomma un po' per chi ci guarda, anche per gli studenti se vuoi dire due parole di conclusione tu, è in realtà quello da cui la battaglia culturale che forse dovremmo combattere da un punto di vista un po' dell'Italia, prima dalla formazione ma poi in tutte le sedi, è appunto quella di cercare di innanzitutto promuovere uno stile, uno spirito critico ma anche cercare di avere lì quando facevi quel confronto con il Regno Unito. In realtà io ci vedo una differenza fra il guardare in avanti e il guardare indietro. Cioè noi continuiamo a vedere il nostro glorioso passato, a ridividerci l'economia, a fare le fette e a cercare tutto sommato di vivere di vendita con le competenze consolidate, a non essere diciamo creativi, a di là diciamo delle eccellenze storiche che possiamo avere nella moda, nella cucina e quant'altro, che però appunto sono picchi, sono eccellenze, sono diciamo una parte parte. Nella media essenzialmente abbiamo una cultura di carattere statico, una cultura che preferisce raccontarsi quanto era bello e quanto era ricco il passato piuttosto che immaginare la costruzione del futuro. Cosa che invece quando tu lì mi dicevi io prendo quello che ha cervello e cerco di metterlo in condizione di imparare cose nuove, e di creare cose nuove, è una cultura che guarda al futuro, è una cultura dinamica e chiaramente è una cultura che ha una differente atteggiamento nei confronti del rischio perché noi secondo me diciamo anche come popolazione siamo più avversi al rischio, vogliamo conservare, vogliamo una protezione, laddove invece una cultura dinamica è per definizione una cultura che ha una maggiore propensione al rischio, perché se non si cerca il cambiamento, non si può avere cambiamento senza affrontare il rischio. Quindi non so, se magari vuoi chiudere con qualche proprio flash di carattere diciamo costruttivo anche nei confronti sia diciamo degli studenti che di quello che magari, perché poi un po' lo spirito della rubrica del nostro canale, di cercare di investire su una battaglia culturale e cercare di individuare delle linee guida per uscire un po' dalla palude. Non so se vuoi dire due parole di conclusione. Assolutamente, ma guarda, prima di tutto sono d'accordo con la distinzione che facevi tu. L'Italia è un paese nel quale c'è ancora una spiccata propensione a guardare agli aspetti di eccellenza del passato. Tra l'altro questo è un atteggiamento che soprattutto in determinati periodi lasciamo stare questa fase di Covid, ma è in generale pericoloso. Noi ci siamo, per esempio, noi ci siamo per un lunghissimo periodo soffermati sullo straordinario valore della nostra comunità di fisici, comunità scientifica tra l'altro, fino a quando, anche grazie agli auspici del governo Berlusconi, non siamo usciti dal progetto europeo per la fisica. Progetto Euratom a un certo punto ha visto i fisici italiani esclusi perché non riuscivamo a soddisfare una serie di requisiti economici. Ecco, questi sono i risultati del guardare sempre indietro. Cioè, questa insistenza sul fatto che noi disponiamo di cervelli straordinari, sì, sicuramente disponiamo di cervelli capaci, non dico di no, ma il fatto che disponiamo di cervelli capaci non è che voglia dire ai nostri partner europei e non qualcosa di particolare. I cervelli capaci ci sono in tutti i paesi. Quello che serve è l'organizzazione, il sistema di finanziamento, è appunto il supporto e la capacità di rendere sistema quello che si fa. E noi su questo continuiamo ad essere un paese che di nuovo guarda indietro invece di guardare in avanti. Gli inglesi, e non solo loro, sono meglio proprio da questo punto di vista. Sono meglio rispetto a noi anche quando sbagliano. Recentemente Johnson ha preso questa posizione sul coronavirus, patentemente sbagliata. Però l'ha fatto. E l'ha fatto senza tanti problemi. Cioè a un certo punto ha detto, voi siete convinti che serva il vaccino, serva questo, serva questo. Secondo noi no, ci serve di investire sulla, sulla, sulla... Immunità di gregge. Immunità di gregge e quindi cercheremo di fare questo. Poi a un certo punto probabilmente qualcuno deve avergli fatto notare che in assenza di un vaccino l'immunità di gregge voleva dire che una parte molto importante del paese sarebbe morta, dico virus, quindi magari non era il caso di andare in quella direzione. Però l'ha fatto. Cioè questa capacità di prendere quello che ho e rischiarlo su qualcosa che ancora non so bene come andrà, da noi, come dicevi tu, è molto più moderata. Noi abbiamo una spontanea inclinazione ad avere un atteggiamento più cinico, cercare di capire dove va la corrente e non fare passi troppo lunghi quando non sappiamo bene dove appoggeremo i piedi. Gli inglesi in questo, rispetto a questo lo sono molto meno, rischiano di più e investono di più in chi rischia e questo forse è l'aspetto più importante, investire di più su chi rischia. Quindi se vogliamo guardare avanti da una prospettiva più positiva, una delle battaglie culturali, ovviamente non la sola, ma una delle battaglie culturali è proprio questa. Accrescere lo spirito critico che è anche la capacità di credere nelle risorse che si ha di fronte a un futuro del quale ovviamente non possiamo sapere tutto. E quindi aumentare con quello anche la nostra capacità di avere fiducia quando siamo di fronte a situazioni in cui dobbiamo prenderci dei rischi. Assolutamente, grazie. Aggiungo, diciamo, giusto, anche perché poi in poi ne avevamo parlato in qualche altro video, che anche sulla storia di Johnson essenzialmente c'è stato forse anche un po' un parziale travisamento di quello che era il meccanismo comunicativo sul discorso dell'immunità di Gregg, nel senso che lì in realtà effettivamente chiaramente c'è stata una sensibile inversione di tendenza nella strategia, perché prima, diciamo, questo lockdown lo volevano fare, poi l'hanno fatto. In realtà è, diciamo, una cosa che abbiamo, insomma, un po' anche raccontato in altri video, è che anche il discorso, diciamo, suffragrando anche, insomma, un po' il tuo discorso sull'atteggiamento verso il rischio, la strategia era un po' più complessa, nel senso che lì la parola immunità di Gregg era stata estrapolata in un'intervista e, diciamo, considerata come l'obiettivo finale, mentre in realtà la strategia era un pochino più articolata e in realtà sembra che poi fin dall'inizio fosse prevista, diciamo, un'idea di dire, io, che poi è quello che dici tu sul discorso del rischio, procedo per tentativi e che in effetti poi la rotta l'hanno aggiustata e questa, secondo me, è un'altra cosa che possiamo chiudere che culturalmente, secondo me, è fondamentale, l'hanno aggiustata procedendo per tentativi e quando era il caso di aggiustarla, mentre noi abbiamo questa idea che il fallimento è una vergogna, è qualcosa che non si deve fare e quindi abbiamo questa idea che uno magari deve essere infallibile e non si può essere infallibile, in realtà, secondo me, in un'altra questione culturale è di recuperare l'errore che poi, voglio dire, è il passaggio fondamentale anche proprio del progresso scientifico, della tecnologia e se uno non fa i tentativi e non sbaglia, non progredisce, quindi questa idea, raccolgo, diciamo, la tua lettura sul rischio, insomma, sulla capacità di osare, anche come una volontà di avere il coraggio di fare degli errori, perché la paura di sbagliare, se vogliamo questo si sintetizza anche un po' adesso, la strategia italiana sul lockdown, questa incredibile paura di fare qualunque passo ha portato a dei risultati, diciamo, probabilmente allo Stato subottimali sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo morti quanto gli altri o più morti degli altri con l'effetto, diciamo, di chiusura economico maggiore rispetto agli altri paesi, quindi abbiamo il peggio del peggio e laddove invece, per dire, senza mettere in mezzo la Svezia, piuttosto che l'Inghilterra, quantomeno gli altri si può dire che abbiamo fatto un percorso, hanno imparato dagli errori, cioè sono arrivati a un punto però, come posso dire, con un percorso di apprendimento e di crescita, non sono stati fermi così e ancora oggi purtroppo questo rischia di penalizzarci, venendo il discorso del Covid, perché questa strategia attendista ci trova adesso alla riapertura da lockdown, senza la quantità di reagenti per fare i test, quindi alla fine non imparare dagli errori, secondo me è un elemento terribile. Diciamo, da questo punto di vista, se è di Covid che parliamo, l'Italia ha sommato una quantità di errori che molti dei quali sono stati costruiti con lo spirito che dicevi tu prima, cioè in base all'idea che quando ci sono in gioco delle vite umane tu non puoi sbagliare. Sì, cioè, nessuno vuole sbagliare quando ci sono in gioco delle vite umane, però non si può non sbagliare. Quindi anche se è triste dover ammettere che certe volte qualcuno muore perché tu fai una cosa che non avresti dovuto fare, ci sono anche delle situazioni nelle quali questo non può essere evitato. Allora, che facciamo? Non facciamo più niente perché abbiamo paura che qualcuno se ne vada? No. Facciamo delle cose e cerchiamo, come dicevi tu, di imparare quando ci rendiamo conto di aver imboccato una direzione sbagliata, anche perché la direzione sbagliata è sbagliata nel senso che non ti porta ad ottenere il risultato che vorresti, però nel percorso impari delle cose, se tu capitalizzi le cose che impari e cerchi di darne profitto, probabilmente accorci una buona parte del percorso che devi fare per arrivare a trovare delle soluzioni che magari non saranno la soluzione del covirus, ma comunque costituiscono un trattamento di buona qualità del problema. Se invece tu continui ad avere solo paura di sbagliare, poi ti capitano queste cose. Quindi io confrontavo tempo fa i dati italiani con lockdown e con tutte le varie implicazioni con i dati britannici e più o meno eravamo sugli stessi livelli. Quindi a questo punto la domanda è, vabbè, noi siamo tutti chiusi dentro casa tutto il giorno, però poi i numeri grossomodo sono quelli di un paese come la Gran Bretagna in cui ancora questo tipo di iniziative non sono state introdotte. Infatti secondo me la vera cosa, anche un discorso proprio logico da consigliere del principe che uno deve fare, è che osservando criticamente la realtà, anche la paura di agire o il non agire sono in realtà una scelta, perché se tu puoi fare solo A e B e decidi di non decidere, il fatto che tu aspetti causa chiaramente degli effetti in termini di video mare, di costo per la società, quindi anche il non agire è una scelta. Quindi non è che dici io soffermo, non rischio, non succede niente. No, anche non agire c'è un suo costo, no? Sono assolutamente d'accordo con te, non c'è una... non solo col coronavirus, ma con qualsiasi attività che ha un obiettivo pubblico, la scelta di lasciare tutto com'è e non fare niente ha sempre delle conseguenze. Certe volte, non in tutte le circostanze, ma in molti casi importanti, le conseguenze sono conseguenze altrettanto catastrofiche quanto quelle che si avrebbero se si facesse la scelta e le cose andassero proprio male. Quindi alla fine forse ti conviene analizzare la situazione con calma, pesare i vari possibili scenari e poi comunque prendere una direzione. Esatto. Grazie mille Angelo. Secondo me abbiamo fatto una bella chiacchierata utile e niente, direi che con questo ci possiamo salutare. Siamo partiti un po' dal confronto fra i sistemi formativi, passando per le culture, arrivando insomma poi a quella che è la coscienza critica della società, quindi direi che abbiamo fatto tutto il percorso, diciamo, utile a questo tipo di ragionamento. Grazie mille Angelo, buona giornata. Buona giornata anche a te, ciao.